Obi-Wan, la forza d'attacco di Anakin ha abbattuto lo schermo planetario. Ora tocca a te. I nostri ricognitori indicano che il centro di comando dei separatisti si trova nelle vicinanze. Se riusciremo a distruggerlo, danneggeremo le loro comunicazioni e potremo muovere le nostre forze verso la capitale. Sento un grande disturbo nella forza. Lo sento anch'io. Il conte Duku starà caricando il suo Dark Reaper. Dobbiamo affrettarci. Per prima cosa dovrai ripulire la zona d'atterraggio in modo che le nostre forze possano sbarcare. Fai attenzione, l'area è ben difesa. Capisco, maestro. Capisco, maestro. Capisco, maestro. Autore dei sottotitoli. Maestro Windu, la zona è libera. Le vostre forze possono atterrare. Obi-Wan, i separatisti stanno usando quelle centrali energetiche per rifornire le difese nel loro centro di comando. I loro schermi interni sono troppo potenti per le armi della tua nave. Manderò una divisione di ingegneri per aiutarti. Raccoglili nel punto dell'atterraggio e posizionali vicino alle centrali energetiche. Se ne occuperanno da lì. Sto andando. Siamo tutti qui, comandante. Pronti per il decollo. Sto andando. Signore, dovete liberare l'aria da tutti i nemici prima che possiamo atterrare. Sto andando. Sto andando. Sto andando. Sto andando. Signore, i nostri sensori rilevano diverse unità nemiche in avvicinamento. Dovrete coprirci fino a quando non saremo riusciti ad entrare. Dovrete coprirci fino a quando non saremo riusciti ad entrare. Dovrete coprirci fino a quando non saremo riusciti ad entrare. Dovrete coprirci fino a quando saremo riusciti ad entrare. Dovrete coprirci fino a quando saremo riusciti ad entrare. Dovrete coprirci fino a quando saremo riusciti. Signore, abbiamo disabilitato gli scudi interni. E nelle vostre mani ora. Dovrete coprirci fino a quando saremo riusciti ad entrare. Dovrete coprirci fino a quando saremo riusciti ad entrare. No. No. Signore, resteremo qui ad assicurare la zona. C'è un'altra squadra di ingegneri che vi aspetta nella zona di raccolta. Un'altra squadra di un'altra squadra. Siamo tutti qui, comandante. Pronti per il decollo? C'è un'altra squadra. Siamo tutti qui. Siamo tutti qui. Signore, non potremo atterrare fino a quando non avrete distrutto tutte le difese nemiche della zona. Siamo tutti. 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 Siamo tutti.